Ciao a tutti! Oggi l'eleganza la fa da padrone perché parliamo di primi appuntamenti, o meglio, primi appuntamenti con i libri. Ebbene sì, si tratta di un book tag, un book tag molto carino che ci spinge a parlare di cultura, consigli letterari, sotto un'ottica un po' trasgri, diciamo. Il video di riferimento che ho visto è di Read Vlog Repeat, di cui vi lascio il link in descrizione, e sono domande sulla lettura che però ci ricordano le figuracce e le cose belle di un primo appuntamento amoroso. La prima domanda riguarda un primo appuntamento imbarazzante dove si fa riferimento a un libro non brutto ma dove è mancata la scintilla. Avete presente quella cosa trash che vi dicono? Manca quel qualcosa, non sei tu solo io, odio! Vabbè, comunque io rispondo con il libro di un autore che a me piace molto, ma che non mi ha entusiasmato nell'anima, diciamo. È stato il mio primo incontro con Don De Lillo, autore che appunto adoro particolarmente, ma questo libro mi aveva fatto chiedere dove stesse l'entusiasmo per la scrittura di Don De Lillo, che per fortuna ho scoperto con altri romanzi. Il romanzo in questione è Punto Omega, che diciamo è un romanzo molto minimale. Lo ricordo con piacere, nonostante quando nel momento della lettura non mi avesse convinto appieno. Questo dialogo lunghissimo, basato su un dialogo in un salotto principalmente, c'è anche un interessante parallelismo con l'arte contemporanea, in particolare la videoarte. viene fatto riferimento, un riferimento chiaro, che mi ricordo ancora a distanza di anni, quindi riuscito, di Douglas Gordon con 24 Hour Psycho. Douglas Gordon, videoartista molto famoso, che lavorava sul concetto di tempo, quindi prese Psycho di Hitchcock e lo rallentò fino a farlo durare 24 ore. E quest'opera d'arte realmente esistente era uno dei punti centrali per comprendere tutta la narrazione piuttosto cervellotica, perché Don De Lillo, anche nei suoi romanzi migliori, è molto cerebellotico, no? Però, appunto, è un autore di tutto rispetto che in questo romanzo, tuttavia, non mi aveva sconvolto l'esistenza. Se invece non avete mai letto Don De Lillo, vi consiglio L'uomo che cade e Body Art. Body Art è molto sottovalutato, ma secondo me è un libro che merita. La seconda domanda fa riferimento a un primo appuntamento scadente, ovvero un libro più brutto di quello che pensavi. La mia risposta riguarda un libro che non è necessariamente brutto, nel senso non lo ritengo un brutto libro, ma avevo delle aspettative migliori. E sto parlando di Dalle Rovine, di Luciano Fonetta, che nel 2016 è stato anche finalista al Premio Strega, è un romanzo che mi è scivolato completamente addosso. Mi aspettavo un romanzo cupo, un romanzo che bruciasse, che scalfisse la carne, anche perché si parlava di smuff movies, di pornografia. Io mi aspettavo una cosa molto cupa, molto turbolenta. In verità mi è scivolato proprio addosso. Mi è sembrato, come ho già detto, una serbian film più edulcorato, e non mi aveva convinto. Terza domanda, invece, è il primo appuntamento ben preparato. Un libro migliore di quello che pensavi. E la risposta è Addio le armi, di Ernest Hemingway, che io mi ricordo lessi per un club di lettura, e pur sapendo che Hemingway fosse un grande scrittore, nonché uno dei più importanti scrittori al mondo, la tematica della guerra mi aveva lasciato un po' interdetto. L'ho iniziato senza grande preparazione, diciamo. Tuttavia le rimasi sconvolto. È un libro straordinario, che lessi con grande meraviglia. Mi aveva sorpreso la scrittura di Hemingway, che appunto è quella principale. Il principale talento di Hemingway è quello, l'uso delle parole, l'uso essenziale delle parole, la capacità di creare dei discorsi magnifici, una tela dove compaiono delle frasi che si è prese singolarmente e possono essere di una banalità sconcertante, ma agglomerate l'una con l'altra creano una musica perfetta, e quindi Addio le armi, assolutamente. Quarta domanda. Bello ma stupido. Un libro bello fuori ma brutto dentro. Non è un brutto libro, quella mia risposta, ma è un libro che secondo me aveva delle premesse molto interessanti che invece sono state mal riposte, diciamo. E ho fatto anche una recensione su questo libro ed è Enciclopedia della donna, aggiornamento di Valeria Parrella. L'intenzione era quello di riprendere uno dei capisaldi della cultura pop italiana degli anni 60, ovvero l'Enciclopedia della donna, che era questo supplemento che usciva in edicola di domenica, se non ricordo male, dove si davano dei consigli alle casalinghe, in sostanza, dei consigli di bellezza, dei consigli su come tenere la casa, e molto spesso ci si avvicinava a del neanche troppo lieve sessismo. E Valeria Parrella vuole fare un aggiornamento 2.0 su questa Enciclopedia, introducendo la tematica dell'erotismo. Tuttavia ho trovato che il libro fosse poco frizzante, poco sagace, cioè è sagace nell'idea, ma l'esecuzione, secondo me, non ha avuto il giusto appeal. Ma ve ne parlo meglio nella recensione, che vi lascio qua sotto. Domanda 5. Appuntamento al buio. Un libro che hai comprato ad occhi chiusi. I primi tre della sestalogia, sestalogia, boh vabbè, della saga di Knausgaard, considerato il Proust norveggese, non ne ho ancora letto uno, scandaloso, e sono La morte del padre, e ce li ho là. Un uomo innamorato è l'isola dell'infanzia. Sì, devo comprare gli altri. Gli ho proprio presi ad occhi chiusi, non sapendo neanche se mi piacesse o meno, perché sono quasi convinto che mi piaceranno per forza. E quindi sì, comprati così, proprio. Avevo un buono, dovevo spenderlo, e Knausgaard mi ha detto vieni da me, vieni da me. È bellissimo. 6. Speed Dating. Un libro che hai letto super velocemente. Letto proprio in un'unica, in un'unica seduta, anche perché è molto breve, al parco, mi ricordo, Il silenzio del mare di Vercors. Un classico della letteratura francese che ti consiglio apertamente. È un classico che rimanda alla storia, infatti siamo in un periodo di guerra, ma si sorprende, si sofferma soprattutto sulla forza espressiva del silenzio e sulla carica di epifania riguardante la parola, quando la forza della parola, del linguaggio. È un libro che vi consiglio caldamente. 7. Settima domanda. Il rimpiazzo. Un libro che hai letto troppo presto dopo una lettura importante e che quindi non hai apprezzato. Allora, qua parliamo di un libro, di un'autrice, che mi piace a volte, e a volte invece prende, secondo me, delle accantonate. Non è esattamente conforme alla domanda, nel senso che io ho letto questo libro subito dopo un altro libro della stessa autrice che mi aveva convinto per quello spirito un po' cinico che invece non ho riscontrato in quest'altro libro. Il libro in questione è Acido Solforico di Amelino Tomb. Amelino Tomb è bravissima nell'usare le parole con un piglio, un certo piglio ironico, un certo piglio anche grottesco, crudele, e invece Acido Solforico tutto ciò che non avevo trovato nei libri prima. Parte da un'idea molto interessante, questo reality show cupo crudo che rimanda al nazismo, cioè è pesante, però il problema è che il libro, secondo me, è proprio affossato da un mare di retorica e secondo me ha proprio preso un'accantonata. A molti piace questo libro, a me non ha convinto per niente. Ottava domanda, Il Troppo Entusiasta, un libro che ci ha provato troppo. Rispondo con un libro che mi piace molto, lo adoro, ma che va letto a piccole dosi perché ci prova troppo, diciamo, ed è un classicone che dovete assolutamente leggere. Cent'anni di solitudine di Gabriel Garcia Marquez. È un libro bellissimo che tuttavia ha un linguaggio molto sofisticato, molto barocco, molto legato al surreale. È come... il problema è che la scrittura, secondo me, ma anche nelle intenzioni di Marquez non è un libro da leggersi tutto d'un fiato perché dopo un po' diventa pesante. È un po' come il miele. Un cucchiaio ti manda in estasi e pensi di finirti l'intero barattolo, ma dopo cinque cucchiai ti viene il mal di pancia. È un po' la stessa cosa che ho provato con Marquez. Una scrittura straordinaria, un libro bellissimo, però da centellinare di giorno in giorno. Io mi ricordo che quando l'ho letto leggevo massimo dieci pagine al giorno e me lo sono goduto così. Bisogna ascoltare il tempo del libro, non avere la foga. Se un libro vuole farsi leggere in tanto tempo, leggetelo in tanto tempo, non divoratelo o finite per non capirlo barra apprezzarlo. Nona domanda, il primo appuntamento perfetto, un libro che per te ha fatto tutto bene e qua nomino Delitto e castigo di Fedor Dostoievski. Una risposta molto banale, ma secondo me è il romanzo perfetto. perfetto nell'analisi psicologica dei personaggi, perfetto nella struttura narrativa, perfetto nella creazione della suspense e secondo me è perfetto anche perché a distanza di secoli dalla sua uscita è ancora attuale, è ancora coinvolgente, è ancora super avvincente, non è invecchiato e non invecchierà mai. Quindi la perfezione della letteratura secondo me. il decimo decima e ultima domanda, il primo appuntamento umiliante, un libro che ti fa sentire imbarazzato all'idea che ti sia piaciuto, un libro o un libro che ti imbarazza a vedere letto in pubblico. In realtà nessuno, perché anche i guilty pleasures fanno parte del proprio arricchimento personale e anche nessuno dalla parte degli altri lettori perché sono dell'idea che tutti sono liberi di leggere quello che vogliono, anche i libri trash in modo non ironico. non mi sembra giusto giudicare le letture altrui anche perché la lettura deve essere considerata una passione e non siamo qua a fare i maestrini per nessuno e quindi sono molto molto free da questo punto di vista anche se posso sembrare fin troppo aggressive. E detto ciò il tag è finito. Fatemi sapere che libri portereste al primo appuntamento se il video vi è piaciuto o non vi è piaciuto vabbè io vi mando un bacione lo stesso e vi aspetto al prossimo video ciao 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 ciao